Ale, 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 Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai, non esiste niente al mondo che mi porti via da te, le denuncianne di fida io sarò sempre con te in Italia e nel mondo, noi saremo sempre qua, forza Milan non mollare, vince ancora per gli ultra, la 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 la, e io canterò fino al novantesimo, che fatica che ti chiedo, forza Milan, faccio un gol e faccio un gol, la curva su ti ama tutta la settimana, penso solo a te, Rosso Nero, unico grande amore, una grande passione che sta dentro di me. Rosso Nero siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale, il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Primo commento, Team Maglie Calcio, l'eccellenza per quanto riguarda tutto il vestiario sportivo ragazzi, tutte e magliette delle vostre squadre preferite italiane, europee e mondiali, ma soprattutto tutte le grandi marche sportive, Adidas, Nike, Mizuno, tutto quello che volete di Adora lo trovate solo su Team Maglie Calcio. Numero Whatsapp per contattare Francesco nel primo commento, tutti i miei social e il gruppo Telegram lo trovate in descrizione ai video, tutti i link utili, ma soprattutto Matteo Chiamenti, iscrivetevi da Matteo. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, scusate se mi sono dilungato nelle sponsorizzazioni stamattina. Allora, un paio di punti da toccare, negli ultimi video abbiamo fatto dei video dove ci siamo concentrati sui problemi di questo Milan. La playlist è praticamente finita, abbiamo fatto tre video e abbiamo toccato proprietà, dirigenza, squadra e allenatore per farvi capire quello che pensa questo canale su tutti i vari pioli out e per farvi capire che quando ci sono dei problemi, come si vince tutti insieme, si perde anche tutti insieme. La sconfitta è per tutti, una sconfitta che di fatto non è reale solo nella vostra testa perché vi ricordo che dobbiamo giocare un quarto di Champions e siamo in piena lotta per rientrare in Champions League nella prossima stagione. Quindi, lamentarsi, provare a fare delle critiche per quanto possibile costruttive, secondo me la parola critica e costruttiva insieme non va mai d'accordo, le critiche sono critiche e quando ci si merita di essere criticati è giusto essere criticati e noi lo facciamo. Perché questo canale non è vero che è fatto da yes man, come dite voi, questo canale quando è il momento dice anche quello che pensa in negativo. Siccome negli ultimi tre anni di negativo c'è stato ben poco, probabilmente non l'abbiamo mai fatto, da quando questo canale è aperto di negativo nel nostro Milan abbiamo visto ben poco, quindi c'era poco da criticare. Oggi c'è qualcosa da dire e lo abbiamo detto. Ma andiamo sui punti di stamattina. Andiamo a parlare prima di tutto dell'incontro fra Cardinale e il Comune di Milano, il Sindaco Sala e il Sindaco Sala. Allora ragazzi, Gerry Cardinale ha detto che il Milan farà lo stadio nella maniera più assoluta, a prescindere dalla burocrazia italiana. Gerry Cardinale dice che la prima pietra la vuole mettere entro tre anni e io sono convinto che Cardinale manterrà la parola. È un fondo americano, è una proprietà che ha bisogno di far crescere questa squadra per poi comunque in un prossimo futuro cercare di rivenderla a più soldi. E l'unico sistema veramente che può fare lievitare il valore di questa società è proprio lo stadio, avere lo stadio di proprietà. Quindi per Cardinale è la priorità più assoluta. E ripeto, io sono d'accordo quando Cardinale se ne sbatte i coglioni del campo e pensa a queste cose. Chiaramente lo sarei un po' di meno se se ne sbattesse il cazzo di tutto. Mentre invece è molto attivo sulla questione stadio. Gerry Cardinale lo stadio lo vorrebbe fare a Milano e la Maura è il posto individuato all'interno della città. Però ragazzi il dato di fatto è questo, che se la Maura non andrà in porto ci sarà Sesto San Giovanni, se Sesto San Giovanni non andrà in porto ci sarà San Donato, se San Donato non andrà in porto ci sarà un altro posto. Ragazzi il Milan farà lo stadio. Questa proprietà, ripeto, ce l'ha come priorità. Ed è un dato di fatto. Gerry Cardinale sta scendendo in campo in prima persona per spingere il più possibile a velocizzare tutto quello che serve, tutta la burocrazia italiana, per cercare di iniziare il prima possibile la costruzione dello stadio. Al sindaco Sala ha promesso che entro 15 giorni arriverà con un progetto per la bonifica di tutto il territorio dove verrà costruito lo stadio. Soprattutto tutte queste associazioni che vengono fuori a puntino, a pennello, per parlare dello stadio, andare contro lo stadio. La città di Milano è diventata grande anche alla C-Milan in Europa soprattutto e all'Inter. Le due squadre di Milano sono un punto fondamentale della città. E tutte queste associazioni di sto cazzo, i verdi, i gialli, i rossi, i grigi, anche se ne andassero un po' a fare in culo. Ma smettetela! Chissà perché per l'arco della pace non avete detto niente, per Porta Venezia non avete detto niente, per lo stadio rompete i coglioni. Lo stadio è il modo più semplice per dare visibilità ad una città. E ripeto, il calcio come prodotto interno l'ordo è l'azienda, la terza o la quarta azienda per fatturato in Italia. E voi non potete andare contro chi paga le tasse in Italia. Avete rotto i coglioni! Chiaro? Comunque poi il sistema stadio lo approfondiremo in futuro, quando poi Cardinale presenterà il progetto. Allora ragazzi, oltre a Cardinale, siccome siamo durante la sosta e le chiacchiere vanno e vengono, chiaramente sapevamo che non avremmo passato una sosta tranquilli, proprio per i risultati che sono arrivati prima della sosta, era normale. Però tutti i nostri giocatori in nazionale stanno facendo bene. Mike Mignon parla un rigore a De Pai, dimostrandosi veramente un portiere eccezionale, oggi il migliore in Europa, non ce n'è per nessuno. E quando gli avversari, quando una volta ogni tanto non arriva la grande prestazione di un nostro giocatore, ne parlano, vuol dire che anche per loro questo è il miglior portiere in Europa. Se no non ne parlerebbero. Quando c'era Tatarussano in porta non si fermavano a parlare di Tatarussano, anzi non dicevano niente perché andava tutto bene. Oggi che c'è Mike Mignon e Mike Mignon magari non fa una prestazione importante come ci ha abituato, ne parlano tutti. Quindi vuol dire che per tutti Mike Mignon è un portiere fortissimo. Ma poi è un dato di fatto. Chi lo nega è perché probabilmente non capisce un cazzo, comunque è malizioso nei confronti del Milan. Comunque parla anche del discorso della nuova regola sui calci di rigore. La prende un po' sorridendo, dicendo che tra un po' li faranno parare i rigori con la schiena girata verso il giocatore, verso il campo. Ma vabbè, sono tutte chiacchiere che stanno a zero. Però ragazzi io voglio andare a parlare un attimino delle voci di un possibile interessamento del Milan per Alvaro Morata. Premessa, Alvaro Morata, giocatore che a me è sempre piaciuto. Non un grande goleador, ma è un po' come Giroud, il giocatore dei gol importanti. Alvaro Morata è un giocatore che quando c'è la partita importante difficilmente sbaglia la prestazione. A me è un giocatore che piace, è un giocatore maturo, ormai ha 30 anni. Nell'ultima partita è stato capitano della Spagna, quindi un giocatore che ha una certa rilevanza, anche a livello di immagine e spogliatoio. È un uomo spogliatoio perché per essere il capitano di una squadra come la Spagna vuol dire che comunque hai un certo peso all'interno dello spogliatoio. È un giocatore di grande esperienza internazionale. E attenzione che quest'estate sarà il primo vero mercato di cardinale da solo. Perché non si può pensare che un mercato di riparazione sia il primo mercato di una società. Perché comunque è l'estate che si fa una programmazione importante. E questa società, vi assicuro, che in questo momento sta programmando. A differenza della scorsa stagione dove tutto è stato fatto male, e ce ne stiamo accorgendo e ne abbiamo parlato, nella prossima stagione il Milan sicuramente, a prescindere dai risultati che arriveranno, questa società programmerà il mercato. Questo ve lo posso assicurare. L'unica cosa che potrebbe cambiare è se rimane o meno Rafa Leao. Ma questa potrebbe essere anche una scelta del giocatore. Chiaramente un giocatore come Leao potrebbe voler giocare la Champions. E il Milan probabilmente, se non dovesse raggiungere la zona Champions, potrebbe far fatica ad assicurare a Leao uno stipendio da 7 milioni. Ma vediamo ragazzi, sono tutte chiacchiere, oggi non lo sappiamo. Io penso solo che Leao debba stare tranquillo e pensare al campo. E io spero che queste due settimane di stop servano a Leao per capire quello che deve fare in questo momento. Poi quello che sarà, sarà. Torniamo ad Alvaro Morata. È il giocatore giusto? Probabilmente sì. Perché comunque è un giocatore che nel modulo del Milan potrebbe fare assolutamente bene. È un giocatore che è capace a riempire l'area di rigore, ma non solo. Può giocare anche più spostato a sinistra, quindi potrebbe essere anche un'alternativa a Rafa Leao sulla sinistra. Ma principalmente è una seconda punta. Attenzione ragazzi, perché nella prossima stagione un Orighi inserito nei sistemi tattici di Pioli, un Giroud che è pronto alla riconferma anche per la prossima stagione e magari un giocatore come Morata con in più magari un Lorenzo Colombo rientrante al Milan potrebbe essere un attacco di tutto rispetto per il Milan. Ragazzi, non avremmo comunque un goleador da 20 gol, ma tutti insieme potrebbero alternarsi e portare i gol che servono all'AC Milan. Ragazzi, vi ricordo che in questa stagione è vero che non abbiamo segnato tanto, ma tante cose si sono messe in mezzo a rompere le scatole. Il fatto che Orighi non riesca ad inserirsi, il fatto che De Ketlare non si sia ancora messo a disposizione in maniera certa, come l'abbiamo visto nel Bruges. Tante cose hanno portato il Milan a segnare poco. Ecco ragazzi, io penso che Alvaro Morata potrebbe essere una soluzione giusta visto anche perché è un giocatore che si muoverebbe a zero e ha comunque uno stipendio che è nei parametri del Milan se il giocatore partirebbe a zero. Quindi ci potrebbe stare anche a livello di prezzo. Ora ragazzi, io non vi sto dicendo che il Milan sicuramente andrà su Alvaro Morata, probabilmente anche no, però è un giocatore che senza ombra di dubbio è nei parametri del Milan. Perché comunque il Milan ha bisogno anche dell'esperienza internazionale dei giocatori e Morata ne ha da vendere. A livello di ingaggio e cose abbiamo detto che va tutto bene e bisogna capire un po' tutto il resto. Però nella girandola dei nomi è quello che più di tutti potrebbe far bene al Milan. Alvaro Morata al Milan diventerebbe un punto di riferimento per tanti e sicuramente è un giocatore che può fare bene. Soprattutto Alvaro Morata ha dimostrato nella sua carriera che quando è centrale ad un progetto può far bene. In Italia è un giocatore che può fare il suo, lo ha già dimostrato, perché comunque è un giocatore fisicamente messo bene, ha tanta esperienza, quindi è un giocatore che mi piace. È un giocatore che a me piace, poi ripeto, a me è sempre piaciuto Morata come giocatore. Chiaramente, ripeto, non è un bomber da 20 gol a stagione. Il Milan deve puntare o potrebbe puntare sull'addizione di tutti i suoi attaccanti. Ripeto, ragazzi, come aspettiamo Charles de Ketlare? Possiamo aspettare anche Divo Corighi in un'altra stagione, perché non penso che uno abbia fatto meglio dell'altro. In questo momento sono due giocatori che entrambi hanno dato zero. Orighi un paio di gol li ha fatti, De Ketlare neanche quello. Quindi non vedo perché non bisogna aspettarlo. Ragazzi, ci sono delle richieste per Ante Rebic. Ante Rebic è un giocatore che va dato via. In questo momento si può vendere anche a un prezzo intorno ai 10-15 milioni. Comunque sarebbe tutto grasso che cola nelle casse del Milan. E basta, insomma. Il discorso è un po' questo. Ci sono dei giocatori che sicuramente andranno via in questa stagione. giocatori che hanno reso davvero poco. Però giocatori che abbiamo atteso per tanto tempo e non sono ormai arrivati. Vedi De Ketlare, vedi Ante Rebic. Il discorso di Brahim Diaz è un po'... si fa fatica. Il Milan potrebbe, vorrebbe tenerlo. Il giocatore vorrebbe rimanere a Milano. Però chiaramente, essendo di proprietà del Real Madrid, il Milan non è disposto comunque a riscattarlo a 22 milioni. Il Milan potrebbe arrivare a un massimo di 15 milioni. Se il Real accettasse l'offerta del Milan anche per il volere del giocatore, allora probabilmente rivedremo Brahim Diaz con la maglia del Milan. Se il Real Madrid non si arriverà a un compromesso a livello economico, sicuramente Brahim Diaz non sarà del Milan nella prossima stagione. attenzione che probabilmente al Milan converrebbe cedere Brahim Diaz e dare tutto lo spazio necessario a Charles De Ketlare. Io sono convinto che il Milan, non dico che farà una rivoluzione perché non c'è bisogno di rivoluzionare niente, però qualcuno andrà via e qualche giocatore importante arriverà. Ripeto, il prossimo mercato sarà quello della presentazione di Redbird. Stavolta l'ho detto giusto perché mi confondo sempre Invescort per Redbird. Redbird sarebbe quello della presentazione di Redbird vera e propria. Quindi mi aspetto anche qualcosa di importante. Ragazzi, buona domenica a tutti. Il video era questo. Vi voglio bene a tutti. sempre Forza Vecchio Cuore Rosso Nero. Ricordate, se questo caso ti fa la vecchia maniera, noi siamo Vecchio Stamp. Ciao a tutti. Domani in live, ragazzi, sabato e domenica inutile fare dirette. La faremo domani sera. Buona giornata. Ciao a tutti. Buona domenica. A voi e alle vostre famiglie. Ciao a Cilina. Ciao a Cilina. Dico che siamo tutti le tempi e tutti. solo per me ci danno a fare ci senti. Se ci sarà lo scopo sarà le pade. Viva me lo dico.